Cicciamo e cicciaremo, la valti sulla nostra e la difenderemo. Cicciamo e cicciamo e cicciamo e cicciamo e cicciamo. Ale, 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 Ale al cantiere di Romare detto non è solo un mestiere, allora, oh lele, oh la la, sempre con te, perché siamo orata? Allora, oh lele, oh la la, perché siamo orata? Viva la Vittoria! Viva la Vittoria! Viva la Vittoria! No, ma vorrei che potreste interrompere questo video in diretta, per cuore, no? Fai una soluzione, ragazzi, stiamo indietro, stiamo in modo perché... Eh, vabbè, però questo era un problema, però... Dai! Stiamo, scolta, stiamo un pochettino indietro, ok. Allora, vediamo quel cazzo, dai, andate a vedere, dai! Tranquillo! Dai! Non è la prima volta, no? Ora no! no, 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 no. Con calma, senza arrivare alla cellula. Con calma, eh! Con calma! Con calma! Non c'è tutto! È un momento delicato, non potete fare film. Sì, ma con calma, ci stavamo parlando... Allora, buttate giusto i camere così non abbiamo neanche dubbio. La ragazza, la ragazza avevamo dato dato un accordo e... A me nessuno si prende male! Grazie. Grazie.